Non si può correre la prova per mancanza di luce, come ci diceva. Nel frattempo il canape è stato abbassato dal mossiere, quindi la mossa a questo punto è valida, con il micchio che non è entrato, la partenza della contrada della lupa, seguita poi dal bruco, dalla contrada della chiocciola, istrice e gli altri che stanno andando abbastanza tranquilli. Quindi il nicchio non è entrato, il mossiere ha abbassato il canape. Il bruco si porta adesso in prima posizione alla curva del casato, Bruco, chiocciola, lupa, istrice, tartuca, drago, giraffa, oca, aquila e adesso il nicchio che ha la cappella. Alla Fonte Gaia rallenta la contrada del bruco, rallenta Jonathan Bartoletti sul preziosa Penelope, alle sue spalle c'è la contrada della chiocciola con Alessio Mighelli, il tono girolamo e il ratto, girano praticamente insieme alla curva di San Martino e poi la contrada della chiocciola che si porta in testa va a affrontare la curva del casato, chiocciola, poi Bruco, a San Martino c'è la tartuca, l'istrice, poi la contrada del drago, le altre sono invece molto indietro, il nicchio, l'aquila, la giraffa, all'occa e la contrada della lupa che è davanti a Fonte Gaia e sta per essere raggiunta dalla contrada della chiocciola che ha rallentato molto l'andatura, così ha fatto anche il bruco. Adesso l'istrice è in terza posizione all'altezza della mossa, praticamente al passo la contrada della tartuca e quella del drago. Passa adesso il nicchio alla curva del casato. Davanti alla cappella siamo nell'ultimo giro di questa prima prova, la contrada della chiocciola, Alessio Mighelli, detto Gironamo, su Ratto, che gira un'andatura molto bassa, poi il bruco alle sue spalle, Carlo Sanna, detto Brigante, e Reynard King. Quindi prima prova vinta dalla contrada della chiocciola, con Alessio Mighelli, detto Gironamo, su Ratto, alle sue spalle, un po' distanziato, il bruco con Carlo Sanna, detto Brigante, e Reynard King.